Lettura della civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, a cura di Andrea Zorzi, edito da Firenze University Press. Disponibile per l'acquisto o il download gratuito in formato digitale al link in descrizione. Capitolo quarto. Studi americani sulla cultura e sulla storia sociale e politica dell'Italia comunale, di John Najmi. L'interesse americano per l'Italia dei comuni ha una lunga storia che risale alla metà dell'Ottocento e che per molto tempo si è manifestato non tanto nella storiografia accademica quanto fra letterari e scrittori e negli ambienti del collezionismo e dei consumi culturali dei ceti benestanti nella seconda metà del secolo. Per Nouveau-Riche, come anche per scrittori ed intellettuali, il viaggio in Italia diventò non solo di moda ma quasi obbligatorio. Al centro dell'attenzione di questi pellegrini culturali era appunto la vecchia cultura dei comuni medievali, una cultura pur diversa e lontana dall'America industriale e imperiale che i facoltosi visitatori desideravano acquisire in tutti i sensi. In due ottimi saggi Anthony Mulho e Marcello Fantoni hanno messo in luce le matrici ideologiche e culturali dell'interesse per i comuni medievali, mostrato dagli americani che si recavano in Italia alla scoperta di quelle piccole ma culturalmente ricche comunità caratterizzate secondo loro dall'individualismo economico così caro agli americani, da una libertà politica tenacemente conquistata e difesa e da una cultura se non proprio laica almeno liberata dal potere oppressivo dell'autorità ecclesiastica anche nelle manifestazioni religiose. Secondo i due studiosi gli americani dell'ottocento sarebbero stati alla ricerca di antenati spirituali veri o finti che legittimassero i valori democratici e capitalistici al centro dell'immagine che avevano di se stessi e dell'America di allora vedendo nei comuni un ideale romanticizzato di libertà economica e politica e facendone così indubbiamente un mito. La civiltà comunale poteva però assumere connotati diversi e l'appropriazione di quel mondo da parte degli americani non seguiva un'unica strada. Oltre ad essere un modello di ciò che secondo alcuni l'America industriale e capitalistica stava diventando, ad altri i comuni apparivano un modello di ciò che l'America avrebbe dovuto essere, ma che decisamente non era. Per la società americana dell'epoca, in cui sembrava che la corsa alla ricchezza fosse l'unico valore universalmente condiviso, anche se tutt'altro che universalmente raggiungibile e che vistessero scomparendo i tradizionali valori religiosi e culturali, l'Italia comunale avrebbe dimostrato come fosse possibile coniugare un'economia dedicata al guadagno, a una forte sensibilità estetica e a una sentita e vissuta solidarietà sociale radicata in valori religiosi ed etici. Indubbiamente un mito anche questo, ma un mito che accusava l'America della Gilded Age di mancanze spirituali e culturali. Seppure quindi con motivazioni divergenti, nel mezzo secolo precedente la prima guerra mondiale, molti americani si appassionarono alla civiltà comunale dell'Italia medievale. Venivano in Italia, scrivevano ricordi di questi viaggi e compravano o facevano comprare libri, manoscritti, quadri, sculture e oggetti di ogni sorta, in alcuni casi per collezioni private, in altri per conto di musei e di università. Tutti sanno quanti e quali capolavori dell'arte italiana medievale si trovino nei grandi musei di Boston, New York e Washington e molti conoscono la splendida casa in stile veneziano fatta costruire da Isabella Stewart Gardner a Boston, riempita di quadri acquistati su consiglio di Bernard Berenson. Qui preferisco invece menzionare due esempi minori con i quali ho qualche familiarità e che saranno meno conosciuti in Italia. Innanzitutto lo splendido museo, anche se di dimensioni modeste, situato a Worcester, una città meno nota del Massachusetts, che conosco per esserci nato. Un museo in cui le prime sale sono piene di veri gioielli della pittura italiana del II e del 300 e anche dei secoli successivi, compreso l'affascinante San Giovanni Battista di Andrea del Sarto, ritrovato proprio qui a Worcester una ventina di anni fa. Ai primi del 900, le famiglie benestanti di questo modesto centro industriale condividevano l'entusiasmo per la cultura europea e in particolare per quella italiana dei secoli dei comuni, tipico dell'elite culturale in tutto il nord-est degli Stati Uniti. Il Worcester Art Museum fu fondato nel 1896 e per alcuni decenni furono queste famiglie a condurre la notevole campagna di acquisti per il nuovo museo. L'altro esempio è quello della Cornell University, l'università dove insegno, che si trova in un tranquillo ma sperduto angolo dell'Upstate di New York. Cornell fu fondata solo negli anni Sessanta dell'Ottocento, ma già nel 1881 il professor Williard Fisk, a nome e con i soldi dell'università, venne in Italia dove inizia una vasta raccolta di manoscritti in cunaboli ed edizioni rare del Petrarca, insieme a pubblicazioni di ogni genere sulla storia e cultura dei suoi tempi. Negli anni 90 Fisk spostò l'attenzione su Dante con una ricerca analoga di libri e manoscritti. Le due ricchissime collezioni che ne sono nate si trovano tuttora presso la biblioteca dell'università e sono ben conosciute dai dantisti e petrarchisti di tutto il mondo. Il catalogo a stampa della Petrarch Collection gode persino l'onore di essere collocato nelle sale di consultazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. La Dante Collection è considerata una delle due più importanti raccolte dantesche negli Stati Uniti. Ebbi subito una prova della ricchezza di queste collezioni quando, 30 anni fa, iniziando a insegnare a Cornell, tenni un seminario sulla cronachistica fiorentina del 2300, inclusa la tanto discussa cronica del Malispini. Venne a sapere che dei 12 o 13 manoscritti superstiti della cronica, tutti si trovano sparsi in diverse biblioteche italiane, tranne uno che fa parte della Dante Collection della Cornell University. Racconto questi particolari solo come esempi di un fenomeno diffusissimo in America da metà ottocento ai premi del novecento. Recentemente l'attenzione di alcuni storici si è soffermata sulla curiosa figura di James Jackson Jarvis, che mise insieme e portò in America una notevole collezione di quadri italiani, in particolare due trecenteschi, nella convinzione che la conoscenza della vecchia cultura italiana potesse influire positivamente sullo sviluppo morale degli americani. A Firenze la villa ai Tatti e la carriera di Bernard Berenson testimoniano un altro esempio troppo noto perché ci sia bisogno di descriverlo in queste pagine. Vorrei osservare solo che Berenson aveva studiato a Harvard proprio nel momento di maggiore entusiasmo americano per l'Italia medievale e, come vedremo, in particolare per Dante, è che egli fece il suo primo soggiorno in Italia col sostegno di alcuni ricchi bostoniani, i quali si erano già innamorati della civiltà comunale italiana. Villa ai Tatti, con la sua meravigliosa raccolta di quadri, per buona parte trecenteschi, conserva ancora oggi la memoria di quella lontana stagione di scelta culturale da parte di un'America alla ricerca dei propri legami con il vecchio continente. Questa passione, è importante sottolinearlo, si concentrò dapprima sulla cultura artistica e letteraria del Medioevo e soprattutto dell'epoca di Dante, molto prima che il Quattrocento diventasse per gli americani, come per altri, il secolo d'oro del Rinascimento. L'amore americano per Dante risaliva già a Ralph Waldo Emerson negli anni Quaranta dell'Ottocento e successivamente fu nutrito a Harvard da Henry Wadsworth Longfellow, James Russell Lowell e Charles Elliot Norton, che si dedicarono allo studio e alla traduzione di Dante, creando nel contempo l'altra grande collezione dantesca americana. Dal loro gruppo nacque nel 1881 la Dante Society of America, i cui primi presidenti furono gli stessi Longfellow, Lowell e Norton, e che pubblica ininterrottamente da quella data la rivista Dante Studies, massima espressione della ricca tradizione di studi danteschi esistente negli Stati Uniti. E tutto ciò prima che la storiografia accademica e scientifica entrasse in scena. Sarà evidente da questi brevi cenni come l'interesse per l'Italia medievale da parte sia dei ceti benestanti che dei letterati fosse per la maggior parte rivolto alla civiltà dei comuni e non ai comuni stessi, vale a dire all'arte e alla letteratura e non alla storia politica, sociale o economica. Si era più o meno consapevoli che la poesia dantesca e la pittura giottesca derivassero da un mondo creato da forti energie urbane e dai suoi mercanti imprenditori, e si immaginava che gli americani e i cittadini dei comuni avessero in comune l'amore per la libertà, per la ricchezza e per l'arte. Ma ci si fermava lì. Che i comuni fossero esperimenti politici di una novità assoluta nella storia europea, basati su principi giuridici rivoluzionari che permettessero per la prima volta la partecipazione delle classi non nobili, il popolo, alla gestione della cosa pubblica e che queste città-stato si facessero teatro di un conflitto plurisecolari tra classi e cultura, tutto ciò non coincideva con la visione romanticizzata dell'epoca di Dante che tanto piaceva agli americani dell'epoca. E' probabile anche che questa tendenza a voler trovare nel medioevo italiano valori universali o comunque trasferibili e a trascurare negli aspetti contingenti e propriamente storici abbia poi condizionato l'insegnamento della storia italiana europea negli Stati Uniti anche a livello universitario. Uno sguardo rapidissimo a diversi manuali di storia, le grandi sintesi storiografiche che sono lo strumento di base di quel fenomeno pedagogico e ideologico tipicamente americano che è il corso sulla Western Civilization destinato agli studenti universitari del primo anno rivela la scarsa attenzione dedicata ai comuni in quanto enti politici. Il corso e il manuale che lo accompagnano erano nati negli anni durante e dopo la prima guerra mondiale allo scopo di fornire una visione storica attraverso cui i giovani americani potessero e nelle intenzioni di Cancora ci crede debbano tuttora tracciare le origini e la translazio nei secoli di quei valori di libertà, democrazia, individualismo, pensiero razionale, metodo scientifico, diritti umani e infine capacità di riflessione critica sulla propria esistenza che spesso in questa tradizione si ritiene sia esclusivamente occidentale. Come si può leggere nelle introduzioni di quasi tutti questi manuali questa eredità si accumula e si arricchisce secondo una linea di sviluppo storico teleologica che varia pochissimo da un esemplare a un altro. Dai popoli antichissimi del Medio Oriente ai greci ai romani ma più i greci che i romani all'affermazione del cristianesimo antico, alla civiltà cristiana del Medioevo, al Rinascimento e così avanti fino al nostro mondo moderno. Il Medioevo italiano è generalmente presente in questi testi solo indirettamente nella più ampia storia della chiesa del cristianesimo e i comuni sono quasi totalmente trascurati. Le città in quanto centri dell'espansione economica medievale vi meritano qualche cenno come pur ai mercanti ma quando raramente si fa qualche menzione ai comuni si tende a concentrare l'attenzione sulla loro presunta instabilità politica, sulla violenza, sulle fazioni e sull'incapacità di garantire l'ordine e la pace sociale, difetti che avrebbero portato, secondo queste ricostruzioni, alla successiva formazione degli stati più stabili e durevoli nel corso del Rinascimento e quindi a una fase più avanzata di questa civiltà. Il Comune, in altre parole, viene generalmente liquidato nei manuali come un breve esperimento fallito e ben presto sostituito da forme di governo e di leadership più valide, anche se, o proprio perché, più autoritarie. Può sembrare strano che una tradizione didattica intente a tracciare la storia delle libertà occidentali e quindi in parte almeno dell'eredità repubblicana abbia trascurato il ruolo svolto dai comuni. Negli Stati Uniti però si è generalmente convinti che l'America sia stata la prima repubblica dopo quella romana, una convinzione condivisa da commentatori politici come anche da storici non specializzati in storia italiana. Nei manuali, quindi, la genealogia delle libertà politiche discende dagli antichi greci e romani direttamente all'Inghilterra del 600 e poi all'America del 700, saltando i comuni e le repubbliche italiane con tutta la cultura politica e giuridica che li sorreggeva. Fra la maggioranza dei medievisti americani, il cui interesse è rivolto all'Inghilterra o alla Francia, si tende quindi a trascurare non solo i comuni ma l'Italia in generale. Basta ricordare l'affermazione fatta da un'insigna medievista come Joseph Strayer nell'introduzione del manuale a cui collaborò mezzo secolo fa. Secondo Strayer, il vero centro della civiltà medievale era costituito dal triangolo compreso tra il sud-est dell'Inghilterra, la Francia settentrionale e la Germania occidentale. Tutto il resto, compresa l'Italia come anche i paesi scandinavi e quelli dell'est europeo, faceva parte della periferia dell'Europa medievale. Quando lo stesso storico cercò le origini dello Stato moderno, fu alla Francia di Filippo il Bello che rivolse l'attenzione. I comuni italiani venivano menzionati solo come un esperimento politico fallito. Ovviamente questo schema interappretativo non era condiviso dai medievisti americani che si occupavano direttamente dell'Italia. Pur con una notevole diversità di giudizi, gli storici statunitensi dell'Italia medievale erano generalmente concordi nel riconoscere l'importanza dei comuni come fenomeno politico. 40 anni fa, niente meno che il grande storico dell'economia medievale italiana Frederick Lane, nel discorso tenuto come presidente dell'American Historical Association, e sul quale torneremo in seguito, riteneva che non il capitalismo mercantile, ma il repubblicanesimo, fosse l'elemento più caratteristico e significativo delle città-stato dell'Italia medievale. 15 anni più tardi, il bel libro di Lauro Martinez sulle città-stato e dalla nascita dei comuni fino al Cinquecento, a mio giudizio la migliore sintesi di storica dell'Italia comunale prodotta da uno storico americano, dedicava molto spazio ai comuni, dandone peraltro un giudizio nettamente positivo. Difficilmente e raramente però, fra gli storici americani non del settore, compresi i medievisti, si riconosce che i comuni abbiano potuto svolgere un ruolo di primo piano nella storia delle istituzioni politiche o in quella dei sistemi di rappresentanza politica, del repubblicanesimo e dell'emergere di un concetto di autorità pubblica che non dipendesse dalla sovranità dell'impero. Venendo ora a considerare i contributi degli specialisti nei vari campi di indagine, è da osservare innanzitutto che i primi a stabilire e istituzionalizzare delle vere scuole negli ambienti universitari, fondando tradizioni di studio che si sono tramandate fino ad oggi, furono gli storici dell'arte. Trattandosi di un campo che esorbita dalle mie competenze, mi limiterò a segnalare le tendenze più note e qualche studioso di rilievo, nonché a sottolineare in particolare alcuni lavori che possono essere considerati contributi non solo all'interpretazione formale di oggetti o di sviluppi stilistici, ma anche alla comprensione dei loro contesti storici e sociali. Già con Richard Hoffner è nato, è vero, a Vienna nel 1889, ma presto trasferitosi negli Stati Uniti dove si laureò alla Harvard University, l'arte dei comuni era ben radicata nel suolo universitario americano. A partire dagli anni venti, quando pubblicò i premi contributi sulla pittura fra i Fiorentina del Trecento e il saggio Italian Primitives at Yale, incentrato proprio su quella collezione che James Jackson Jarves aveva fatto per venire negli Stati Uniti intorno al 1860 e che finì collocata nel museo di Yale, Hoffner era il maestro e caposcuola di ciò che ben presto diventò la grande tradizione di studi americani sulla pittura italiana. I suoi studi su Giotto e il Critical and Historical Corpus of Florentine Painting, da lui iniziato negli anni venti e tuttora in corso, oramai in molti volumi, rimangono strumenti di lavoro indispensabili. Allievo di Hoffner era anche Millard Mais, le cui prime pubblicazioni risalgono agli anni trenta e che nel 1951 pubblicò uno dei più influenti libri sull'Italia medievale, sugli effetti della peste nera, sulla pittura e sulla mentalità religiosa e culturale del Trecento, le cui tesi, dopo più di mezzo secolo, sono ancora oggi al centro di vivaci dibattiti sulla civiltà comunale. Da questi e da altri padri fondatori nacquero due filoni dello studio della pittura. Da una parte si è venuta affermando una vera e propria scienza di attribuzioni e datazioni che cerca di definire singole personalità artistiche e sviluppi stilistici. Mi piace ricordare, fra tanti altri, James Stubblebine, che dedicò un'attenzione raffinatissima di ispirazione morelliana e berensoniana alla pittura senese del 2300 e in particolare il suo bel libro su Duccio. Dagli studi di Mais discende invece il tentativo di collocare la storia dell'arte nei relativi contesti sociali, religiosi e politici. In un'indagine sulle fonti delle immagini di San Francesco, negli affreschi di Giotto, nella Basilica Francescana di Santa Croce a Firenze, Rona Goffen dimostrò la contestata varietà di immagini del santo, mettendole in relazione con i conflitti all'interno dell'ordine francescano sulla questione della povertà e con le loro complesse espressioni letterarie. Un libro che fa capire quanto sia possibile ricavare dalla pittura con una metodologia che unisce arte, religione e dispute dottrinali. In uno studio che prende in esame alcuni affreschi a San Gimignano, John Campbell ci ha recentemente mostrato come l'arte dei comuni possa essere ancorata ai suoi contesti politici e culturali. Negli studi sulla scultura manca un vero padre fondatore americano della prima metà del XX secolo. Sia Krautheimer che Jensen fanno parte della generazione di immigrati europei dei tempi bui. E anche se Krautheimer scrisse un ottimo libro sulla Roma medievale, sia lui che Jensen sono meglio conosciuti per i loro studi sul Quattrocento, rispettivamente sui Ghiberti e su Donatello. Per il Due Trecento abbiamo ora i lavori di Anita Moskowitz su Andrea e Nino Pisano e una sintesi sulla scultura dell'intera penisola. Per la storia dell'architettura e dell'urbanistica, parecchi contributi americani hanno arricchito le nostre conoscenze relative alla civiltà e società comunale. In particolare, a partire dagli anni 50, i lavori di Howard Salman sull'architettura ecclesiastica e civile, con un'attenzione sempre rivolta ai grandi temi dello sviluppo urbanistico. E quella di Marvin Trachenberg, che esordì con il bel libro sulla costruzione del campanile di Firenze e su Giotto Architetto e che più recentemente ha pubblicato uno studio affascinante dove dimostra che le piazze della Firenze trecentesca, gli spazi urbani sia ecclesiastici civici, furono il frutto di una precisa e calcolatissima estetica, specchio di determinati valori politici e di una concezione urbanistica complessa e tecnicamente avanzata. Notevoli anche i lavori di David Friedman, che ha analizzato le genesi e le tipologie delle cosiddette terre nuove fiorentine, collocandole nel contesto delle politiche territoriali e dell'espansionismo del comune. Quelli di Paula Spilner, che ha ampliato le nostre conoscenze sullo sviluppo urbanistico di Firenze nel due trecento. E infine quelli di Margaret Haynes e Diane Zervas, che hanno gettato nuova luce sulle opere che amministravano i cantieri di chiese e di altri progetti edilizi, sottolineando la larghissima partecipazione dei cittadini a questi enti che si occupavano non solo dell'aspetto finanziario delle costruzioni, ma anche dei contratti con scultori e capimastri, e quindi anche di questioni tecniche ed estetiche. Disponiamo ora di tutta una serie di indagini riccamente documentate sull'architettura e sull'urbanistica, ben radicate nei loro contesti politici, sociali e istituzionali. Per concludere infine questa rapida e certamente insufficiente rassegna di studi americani sulla storia dell'arte dei comuni, vorrei accennare a due importanti lavori sulle realtà non toscane. L'elegante libro di Patricia Fortini-Brown sull'invenzione a partire dal 200 di un passato antico che a Venezia mancava ad opera di artisti e umanisti veneziani, un libro che dimostra come la storia dell'arte possa essere felicemente congiunta con la storia delle idee e della storiografia, e lo studio di Herbert Kessler e Johanna Zacharias, in cui gli autori, tracciando gli itinerari dei pellegrini che affollarono Roma nell'anno 1300 in occasione del primo giubileo, hanno suggestivamente ricostruito la città medievale e i suoi monumenti. Anche gli studi letterari sull'epoca comunale si sono imposti presto e con autorevolezza negli Stati Uniti. Qui certamente ebbe un peso determinante quella passione per Dante già manifestatasi nell'Ottocento. Il primo commento americano alla commedia risale al 1909 e nei decenni successivi si assiste all'elaborazione di quel particolare modo di leggere Dante in chiave allegorica che si riconosce come la caratteristica più saliente della critica dantesca americana. La figura centrale del dantismo americano è sicuramente quella di Charles Singleton, 1989-1985, il quale, dopo essersi dedicato negli anni 30 al boccaccio e alla critica testuale del Decamerone, cominciò la sua lunga esplorazione ermeneutica delle opere dantesche, prima con un libro sulla vita nuova, negli anni 40 e successivamente con studi sulla commedia, che hanno segnato un'epoca nella critica dantesca del Novecento. La costruzione da parte di Singleton del Dante americano, il profeta visionario di ispirazione biblica compatibile con gli ideali dell'America puritana e con il trascendentalismo, oltre a dominare la critica dantesca negli Stati Uniti, è anche, da mezzo secolo, al centro di vivaci e produttive polemiche nel più largo contesto del dentismo mondiale. Dalla scuola di Singleton, anche se non sempre fra i suoi allievi e spesso con atteggiamenti critici nei confronti del maestro, uscirono John Freccero e poi quasi tutti i più noti dentisti americani, da Robert Hollander a Giuseppe Mazzotta, nato in Italia, ma che scrisse la sua tesi di dottorato su Dante con Freccero presso la Cornell University, poi Teodolinda Barolini, Jeffrey Schnapp, anche gli allievo di Freccero e Stanford e infine Robert Harrison. Anche Petrarca e Boccaccio hanno avuto fortuna negli Stati Uniti. L'interesse per Petrarca, se non così precoce come quello per Dante, risale almeno a fine ottocento. Nel 1898 usciva un volume delle lettere in traduzione inglese che ebbe molto successo. I primi contributi di alto valore scientifico sul Petrarca ad opera di uno studioso americano credo siano quelli di Ernst H. Wilkins, che dopo i primi studi su Dante prodotti negli anni venti, si dedicò al Petrarca dagli anni trenta in poi sino alla sua morte, avvenuta nel 1966. Fra le sue numerosissime opere, le più importanti sono gli studi sulla cronologia e sulla formazione del canzoniere, due volumi sugli anni milanesi del poeta e sui suoi ultimi anni a Padova e Venezia, le indagini sull'epistolario, una biografia costruita sulle lettere e innumerevoli altri esaggi basati su una lettura critica e filologicamente acuta dei testi. Notevoli sono gli studi di Aldo Bernardo su temi poetici e umanistici nell'opera del Petrarca, nonché le traduzioni in inglese delle familiari e delle senili e la concordanza delle familiari, e anche di Charles Trenkaus nelle sue ampie indagini sul pensiero religioso dell'umanesimo italiano che ha dedicato al Petrarca pagine di indiscussa originalità, che mettono in risalto la profondità teleologica del Petrarca e la sua concezione neo-agostiniana, quasi proto-luterana, della giustificazione sola fide. Più recentemente alcuni studiosi americani hanno approfondito l'interpretazione e l'influenza del Petrarca sia sul versante della storia del nascente umanesimo, come George McClure, Keller Killian e Ronald Whitt, anche su quello delle traduzioni letterarie, come Thomas Green e William Kennedy. Anche gli studi sul boccaccio sono diventati ormai una piccola industria negli Stati Uniti. Per mancanza di spazio non si può fare di più che menzionare i nomi di autori di alcuni libri fondamentali, Robert Hollander, Millie St. Marcus, Giuseppe Mazzotta, Jane Smarr, Victoria Keakam e Merlin Miguel. Malgrado questa ricchezza di studi letterari sui grandi poeti del Trecento, però, pochi sono quelli che si ricollegano al mondo comunale o al più largo contesto politico, sociale e culturale. Non esiste un libro americano che si possa equipare al boccaccio medievale di Vittorio Branca. Per quanto riguarda gli studi storici, comincio con qualche commento su due giudizi che si sentono con una certa frequenza a proposito della storiografia americana. Si dice spesso che gli storici americani abbiano concentrato anche troppo l'attenzione sulla Toscana e in particolar modo su Firenze. Se ciò è in gran parte vero per il Quattrocento, lo è meno per il periodo comunale. Le ragioni per cui molti storici americani scelgono Firenze per le loro ricerche non credo siano da cercare, come spesso si sostiene in presunte debolezze per i vecchi miti che facevano di Firenze la capitale del genio rinascimentale o la fonte della moderna civiltà occidentale. Nei cinque anni in cui facevo parte della commissione che valuta le domande per l'assegnazione delle borse di studio della Villa ai Tatti, ne ho lette quasi 500, più o meno la metà presentate da giovani studiosi americani e fra queste non ne ho vista neanche una che alludesse a idee del genere. Giovani ricercatori americani vengono a Firenze per altri motivi. Perché le ricchezze incomparabili degli archivi e delle biblioteche fiorentine offrono vaste possibilità di ricerca. Perché spesso seguono le orme dei lomane maestri e perché da molto tempo si è formata a Firenze e intorno a Firenze quale oggetto di studio, una comunità internazionale di studiosi tale da permettere scambi, dibattiti e una vivace esperienza intellettuale. Allo stesso tempo non va dimenticato che molti storici statunitensi si sono dedicati ad altre parti d'Italia. Venezia ne ha sempre attratto un buon numero, oltre a Lane, Donald Keller, Stanley Cogianchi, Edward Muir, Robert Finlay, Reynald Miller, Dennis Romano e molti altri. Già all'inizio del secolo scorso Ferdinand Sheville, che più tardi scrisse una storia della Firenze medievale rinascimentale, aveva pubblicato una storia del comune di Siena. William Bowski ha scritto due importanti libri sulla Siena dei Nove, ricevendo persino la cittadinanza onoraria. Più recentemente, Edward English e William Cafferro hanno condotto ricerche sull'economia della Siena comunale e Peter Pazzaglini sulla storia giuridica della città del 200. Da segnalare anche gli importanti studi di Sarah Balcea e John Goldman su Perugia, quelli di Carol Lansing e David Foote su Orvieto, di Dean Owen Hughes e Stephen Epstein, su vari aspetti della storia di Genova, di Richard Cooper e Thomas Blomquist sui banchieri e sulla storia economica di Lucca, e infine di Susan Mosher Stewart e James Grubb su due comuni che caddero sotto il dominio di Venezia, rispettivamente Ragusa e Vicenza. E non esclusivamente alle Repubbliche si è rivolta l'attenzione. Robert Brentano ha descritto la società della Roma papale nel 200 e recentemente Ronald Musto ci ha dato un'importante indagine politico-religiosa su Cola di Rienzo e Roma a metà del Trecento. Trent'anni fa Werner Gonsheimer stimolò l'interesse americano per le signorie e le corti con un libro su Ferrari e gli Estensi. Un interesse che si è venuto ampliando nell'ultimo decennio, come si vede dallo studio di Benjamin Cole su Padova sotto la famiglia dei Carrara e da un crescente numero di studi su realtà signorili durante il periodo della loro maggiore affermazione nel 4-500. Altri esempi ancora saranno menzionati nelle pagine che seguono e, pur senza fare un inutile conteggio, ho l'impressione che oramai gli studi americani sulla Firenze comunale siano in netta minoranza rispetto a quelli su altre città. Si dice anche che la moderna storiografia americana sull'Italia tardo medievale e rinascimentale si sia sviluppata come diretta conseguenza dell'arrivo negli Stati Uniti dei grandi storici scappati dalla Germania nazista e dall'Italia fascista alla fine degli anni Trenta. Hans Barron, Paul Oscar Christeller, Roberto Lopez, Felix Gilbert, Theodore Momsten, Ernst Kantorowicz e altri. In questa sede, facendo eccezione per il medievista italiano Lopez, non esaminerò il loro impatto sulla storiografia americana, in parte perché esistono ottimi studi in merito, ma soprattutto perché questi studiosi concentrarono la maggior parte delle loro ricerche sul rinascimento del 4-500 e non sul periodo comunale. Infatti la storiografia statunitense sui secoli precedenti, almeno nel campo della storia economica, era già avviata su basi scientifiche prima del loro arrivo. Già nel 1927-28, Frederick Lane si era recato a Venezia per compiere le ricerche da cui sarebbe uscito il suo primo libro, edito nel 1934, su navi e costruttori di navi nella Repubblica Lagunare. Come viene ampiamente sottolineato in un recente e ottimo saggio a cui hanno collaborato quattro storici attraverso l'analisi dei vari aspetti della sua formazione intellettuale, Lane, oltre ad essere lo storico di Venezia, era anche un teorico dello sviluppo economico e del rapporto fra poteri di governo e imprese economiche, un'indagine quest'ultima che conduceva già negli anni 30. Pare che ad ispirare e stimolare le sue riflessioni in questo campo fossero stati non gli storici esiliati dalla Germania e dall'Italia, ma i suoi maestri alle università di Cornell, dove prese la prima laurea, e di Harvard, dove fece il dottorato di ricerca. Difficilmente, quindi, si potrebbe sostenere che la storiografia europea, che cominciò ad avere un peso in America solo durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbia influito granché sul giovane Lane. Difatti, fu proprio nel campo della storia economica, prima ancora che in altri settori, che la storiografia americana cominciò a prestare attenzione ai comuni italiani. Sempre negli anni 30, un gruppo di studiosi dell'Università di Wisconsin, come Robert Reynolds, e di altre università, come Hilmar Kruger, i due, in collaborazione con altre, curarono parecchie edizioni di atti di notai giovenovesi del XII e XIII secolo. Ponendosi la questione delle origini del capitalismo, dava ampe considerazioni al ruolo centrale svolto dai mercanti dei comuni. Certamente, poi con l'arrivo nel 1939 di Roberto Lopez, il quale si impadronì dell'ambiente universitario americano, conseguendo il dottorato di ricerca proprio a Wisconsin e poi divenuto professore a Yale nel 1946, la civiltà comunale trovò un'altra rocca forte nel mondo universitario statunitense accanto a Lane, che già dagli anni 30 insegnava alla John Hopkins University di Baltimore. Molti storici americani dell'economia italiana del periodo comunale sono stati allievi o di Lane o di Lopez, o allievi dei loro allievi o studiosi usciti in qualche modo dalle loro scuole. David Herley era allievo di Lopez e, prima di lanciare il grande progetto sul catastrofiorentino e sulla storia della famiglia insieme a Christian Kleppisch Zuber, aveva pubblicato due importanti libri in cui collocava le vicende economiche di Pise e di Pistoia nei rispettivi contesti comunali. Reinhold Müller, allievo di Lane, ha scritto lavori fondamentali, uno dei quali, in collaborazione con Lane, sulla storia della moneta e della banca a Venezia. Stephen Epstein, allievo di Herley, ha voluto ripercorrere un po' il territorio del nonno accademico Lopez nei suoi studi su Genova, fra cui un'indagine sui testamenti nei secoli XII e XIII e una sintesi della storia della città ligure dal X al XVI secolo. Samuel Cohn, un altro allievo di Herley, ha studiato, fra le altre cose, i testamenti di Siena e, successivamente, di altre città dell'Italia centrale come punto di partenza per una serie di indagini economiche e culturali. Harry Miskmin, collega di Lopez a Yale, scrisse insieme a lui nel 1962 quell'articolo fondamentale che ha posto la tesi della crisi economica del Rinascimento al centro del dibattito sull'economia italiana del tardo medioevo. E William Cafferro, che ha studiato con Miskmin dopo il ritiro di Lopez dall'attività didattica, ha pubblicato in anni recenti due libri, uno sugli effetti economici a Siena delle deporazioni e delle distorsioni ad opera delle compagnie di ventura, l'altro scritto con lo storico dell'arte Phillips Jacks sull'attività bancaria del mercante e mecenato Tommaso Spinelli. Da segnalare, anche l'ottimo studio di uno storico non di professione Edwin Hunt sulla compagnia bancaria e mercantile fiorentina dei Peruzzi, che offre un'analisi originale sulle operazioni commerciali delle compagnie mercantili e una nuova interpretazione delle cause del fallimento dei Peruzzi e dei Bardi negli anni 40 del 300. Chiese e religione sono temi di più recente ma intenso interesse fra gli storici americani. A prescindere dalla vecchia e ancora robusta tradizione di studi sugli ordini mendicanti e sulla storia delle dottorine religiose, che logicamente prendono in considerazione tutta l'Europa occidentale, senza tenere sempre conto degli specifici contesti politici e sociali, solo negli anni 60 e 70 si è risvegliata l'attenzione degli americani per la storia religiosa dei comuni. Per le questioni di mentalità religiosa, per le associazioni pie formate da laici e per l'organizzazione e il comportamento rituale come fattori della realtà comunale. In pochi decenni i contributi in questo settore hanno raggiunto una notevole ricchezza su due piste. Da una parte abbiamo studi particolari su istituzioni e vicende ecclesiastiche, il libro di Katherine Boyd sulla decima parrocchiale, lo studio comparativo di Robert Brentano che mette a confronto la chiesa italiana del 200 con quella inglese e le ricerche di Richard Trexler sul potere economico, giuridico e spirituale esercitato dal papato nei confronti del comune e, nel caso fiorentino, in occasione di due gravi crisi del 300, i fallimenti delle grande banche e la guerra degli Otto Santi negli anni 1375-78. Un recente saggio di David Peterson ha dimostrato come la memoria collettiva dei fiorentini abbia ricordato ma anche dimenticato certi aspetti dell'epocale conflitto che contrappose Firenze e la chiesa. Notevoli inoltre sono i due libri di Dwayne O'Shaim sui vescovati di Lucca e sul monastero benedettino di San Michele di Guamo in Lucchesia. I libri di Maureen Miller sulla chiesa veronese dal XII secolo e sui palazzi vescovili dell'Italia settentrionale e centrale. Lo studio di George Dameron sui vescovi di Firenze e sui loro rapporti col comune, con le familiari socratiche e con i comuni rurali e il suo recente volume sulla chiesa fiorentina nei tempi di Dante. I lavori di William Boschi sulla parrocchia fiorentina di San Lorenzo e infine lo studio di David Foote sulla signoria dei vescovi di Orvieto. L'altro filone della storiografia americana in materia di religione si è concentrato sui comportamenti e sugli atteggiamenti religiosi. Su questi temi si possono individuare alcune pubblicazioni particolarmente influenti che aprirono la via a nuove indagini. Il capitolo dedicato da Jim Brooker nel suo Renaissance Florence nel 1969 a Chiesa e Fede, un saggio di Marvin Becker che delinea gli spazi e i tempi della religione civica nella società comunale, ma soprattutto i saggi di natura teorica di Richard Drexler su ciò che egli definisce l'esperienza religiosa, un'interpretazione della religione nei comuni in cui sono i gesti, i comportamenti, le processioni e le forme di devozione pubblica a costituire l'identità sia personale sia collettiva dei cittadini. Il comune, secondo Drexler, si definiva, anzi si creava e si riformava attraverso la partecipazione al rituale religioso. Dopo gli studi preliminari risalenti ai primi anni 70, fra i quali si annovera anche il libro sul conflitto tra Firenze e il papato e sulle reazioni dei fiorentini all'interdetto lanciato contro la città da Gregorio XI, nel 1980 Drexler pubblica la sua opera più influente, Public Life in Renaissance Florence, seguito nel 1989 da uno studio su San Francesco. La recente produzione in questo settore dimostra quanto la storiografia religiosa sia stata modellata dai lavori pioneristici di questi storici. Per esempio, l'indagine di un allievo di Brooker, Ronald Weisman, sulle confraternite che, nella sua interpretazione, avrebbero offerto ai fiorentini un rifugio, sia pure temporaneo da una realtà sociale che egli definisce agonistica e competitiva. Le indagini di James Banker, allievo di Becker, sulla vita religiosa dei laici a Sansepolcro. Quelle di Daniel Lesnik, anche egli allievo di Becker, sulla predicazione francescana e dominicana a Firenze, vista come espressione delle esigenze e delle ideologie di ceti sociali diversi. Lo studio di Augustine Thompson, allievo di Brentano, sulla predicazione dell'alleluia nel 1233 e la sua recentissima sintesi della religione dei comuni. Il libro di Daniel Bornstein, sul movimento devozionale dei bianchi nel 1399. L'indagine di Brentano stesso sulla vita religiosa a Rieti. E infine l'originalissimo studio di un'altra allieva di Becker, Carol Lansing, sui catari di Orvieto, dove la lotta trese, eresia e autorità ecclesiastica viene interpretata alla luce dei conflitti sociali e politici del comune e il catarismo come espressione delle aspirazioni del popolo orvieto in lotta con i magnati. Particolarmente notevole nella storiografia americana sulla vita religiosa dei comuni è il crescente interesse per il ruolo delle donne, non solo in rapporto agli ordini vendicanti, ma anche riguardo ai sempre più numerosi casi di donne che, come scrittrici, mistiche e devote, vivevano un'esperienza religiosa autonoma. Lansing ha dedicato alcune ottime pagine al tema e Thomas Longo ha illuminato i rapporti di Caterina da Siena col potere politico ed ecclesiastico del suo tempo. In tutti gli studi citati e in altri ancora, le forme religiose sulle varie manifestazioni, le forme di devozione, le associazioni religiose dei laici, la predicazione e la lotta tra eresia e chiesa, viene messa in stretto rapporto con la società e le istituzioni comunali. Uno sguardo, infine, alla storiografia politica e sociale. Qualche anno fa Edward Muir e Anthony Molho richiamarono l'attenzione sui presunti aspetti ideologici presenti nell'insieme della produzione storiografica americana sull'Italia tardo-medievale e rinascimentale, individuandone le origini in alcuni miti care alle immagini che la società americana, secondo i due storici, avrebbe avuto di se stessa sin dall'Ottocento. Secondo Muir, gli storici americani hanno generalmente accettato come convincente risposta alla domanda perché studiare l'Italia del Rinascimento, l'idea che nell'esperienza dei cittadini dell'Italia rinascimentale, i quali, formati nella scuola dei classici dell'antichità e ispirati ai valori civici di quel mondo, si governavano da sé, fosse implicita una lezione che gli americani sarebbero in grado di capire meglio di altri riguardante i fondamenti ideologici e istituzionali delle repubbliche. Da parte sua, Morho ha affermato che tutti gli americani entrati negli studi sull'Italia rinascimentale dagli anni 50 alla fine degli anni 70 si sono aggrappati all'idea che il Rinascimento, nella storia del pensiero come in quella delle istituzioni politiche ed economiche createsi tra 300 e 500, rappresentasse un contributo essenziale alla formazione del mondo moderno. Sostiene inoltre che fra gli americani che hanno studiato Firenze, in particolare esisteva una forte e profondamente radicata convinzione che Firenze fosse la fonte dei valori che avevano modellato la nostra formazione intellettuale moderna e che per quasi tutti gli studiuti americani del Rinascimento il fondamentale presupposto alla base delle loro ricerche era il nesso vitale tra Rinascimento e mondo moderno. Esistono senz'altro studi che si possono addurre a sostegno delle tesi avanzate da Morho e Muir, ma è impressione che le specifiche motivazioni ideologiche messe in luce da loro appartengono ad una stagione ormai lontana e superata della storiografia americana. La maggior parte delle opere costruite su tali presupposti, come la maggior parte degli esempi specifici riportati dai due storici, risalgono al periodo che va dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, fino cioè al momento in cui ha avuto inizio una storiografia americana sull'Italia tardo medievale rinascimentale, che si può definire scientifica. E molte non erano nemmeno opere di storici specializzati in storia italiana. Mi sembra poi che la convinzione che in quei secoli della storia italiana nascesse il mondo moderno sia stata più influente negli studi sul Rinascimento del Quattro Cinquecento che non in quelli sul periodo comunale e che in questi ultimi le affermazioni tale idee nell'ultimo mezzo secolo sono state infatti abbastanza scarse. Ora, sia Muir che Bonho chiamano in causa proprio Frederick Lane, il quale, in quel discorso attenuto all'American Historical Association, sostenne che il tentativo di far rinascere la cultura politica delle antiche città-stato rafforzò a sua volta l'ideale repubblicano e contribuì potentemente a suo trionfo nelle nazioni moderne e soprattutto nella nostra. Va ricordato però che Lane disse queste cose 40 anni fa e quasi 40 anni dopo aver iniziato le sue ricerche negli anni venti e anche che in quell'occasione l'insigne studioso si trovava a parlare in una riunione di storici americani che lo avevano appena eletto alla presidenza della loro associazione. Parlava quindi ad un pubblico di cui la stragrande maggioranza sapeva poco o punto della storia italiana. Non è probabile che quell'affermazione fosse un tentativo di spiegare perché l'Italia medievale meritasse un po' di rispetto e di interesse da parte di storici che non se ne occupavano professionalmente. Non dico che lei indicesse cose le quali non credeva. Se cercava però di giustificare davanti ad un pubblico di colleghi per i quali Venezia era soltanto una bella meta turistica la scelta del campo di ricerca a cui aveva dedicato così tanti decenni, possiamo domandarci se gli sarebbe stato sufficiente sostenere che il grande contributo dato dalla Venezia medievale alla civiltà occidentale consistesse solo nelle pratiche e nelle ricchezze dei suoi mercanti. Non furono in altre parole i presupposti e i pregiudizi dei suoi ascoltatori ad imporre a Lane la necessità di quella esagerazione retorica? A parte il discorso di Lane del 1965, mi sembra che nella storiografia americana di questi ultimi 40 anni sia difficile trovare altre affermazioni del genere. Credo anzi che la percezione di un nesso genetico tra Italia tardo medievale rinascimentale e il mondo moderno, in particolare quello americano, stia diventando sempre più debole fra gli storici americani. Diamo un'occhiata ad alcuni contributi negli ultimi 40 anni. Nelle sue ricerche sulla storia politica di Firenze, Jim Brooker ha analizzato la trasformazione di una comunità definita attraverso le sue associazioni professionali, le arti, in una repubblica aristocratica, una ricostruzione in cui nessuno dei termini di comparazione si riscontra né con le varie identità collettive coltivate dagli americani, né con le percezioni più comuni del mondo moderno. Marvin Becker ha offerto una serie di ipotesi circa il ruolo dell'indebitamento pubblico nell'emergere di uno stato centralizzato e territoriale, che avrebbe indebolito tutte le altre forme di associazioni, comprese le autonomie locali, le arti, le confraternite e le consorterie. Anche qui è difficile vedere in che senso la Firenze Beckeriana possa riflettere identità collettive o presunti valori moderni tipici degli americani. Convinti i sostenitori delle loro autonomie locali e delle loro associazioni religiose, gli americani hanno sempre avuto forti dubbi sulla legittimità e talvolta sull'esistenza stessa del forte stato nazionale che si è venuto creando nel ventesimo secolo e che molti di loro fanno persino finta di non vedere o almeno di non volere. Julius Krishner, Thomas Kuhn e Laura Eakins Stern hanno ricostruito la cultura giuridica della società comunale e rinascimentale, insistendo non solo sul dialogo complesso e spesso teso tra diritto romano, diritto canonico e legislazione municipale, ma anche sulla radicata concezione dell'onore alla base di questa cultura, su atteggiamenti verso il matrimonio, su rapporti tra coniugi e tra padre e figli e su procedure giuridiche che non potrebbero essere più distante dai presupposti e dai costumi della società moderna, americana o altra che sia. Dane Owen Hughes ha studiato le leggi sontuarie, l'evoluzione della dote e la legislazione su ebrei, prostitute e malati, ponendo questi aspetti della storia sociale dei comuni in contesti lontanissimi da ogni concezione moderna. Dalle ricerche di Robert Black, se come spero può essere ancora annoverato fra gli americani, malgrado i molti anni trascorsi in Inghilterra, di Paul Grander e di Paul Gayle, emerge chiaramente che le istituzioni, i metodi e i presupposti dell'istruzione elementare nella società comunale erano diversissimi da quelli odierni. E a chi scrive, studiando molti anni orsono i sistemi elettorali del comune fiorentino e la parte che in essi ebbero le associazioni di mestiere, non è mai passato per la testa di pensare che nell'esito del lungo dialogo tra le politiche elettorali del popolo delle arti e quelle delle elite e delle grandi famiglie, fosse possibile scoprire i primordi della democrazia o del repubblicanesimo moderno, atlantico o americano o di qualsivoglia ideologia moderna. Non intendo negare la presenza dei sottotesti ideologici nel lavoro degli storici americani, come pure in quelli di storici di altri paesi, e tantomeno la tendenza più o meno consapevole di leggere il passato alla luce o in funzione del presente. Sarai più propenso però a vedere in tutto ciò una frammentata varietà di motivazioni, approcci e convincimenti di base che vanno interpretati caso per caso, tenendo conto delle diverse formazioni culturali di storici appartenenti a generazioni, culture, regioni, classi sociali ed esperienze politiche spesso dissimili e talvolta del tutto contrastanti. Detto questo, sarei d'accordo nel ritenere da una diversa angolazione non toccata né da Muir né da Molho, che ci sia stato e ci sia ancora un forte, ma spesso taciuto, elemento ideologico in buona parte della storiografia americana sui comuni, che nega il più delle volte implicitamente un aspetto essenziale della realtà comunale. Parecchi anni fa, Renzo Pecchioli ipotizzava l'esistenza di un'ideologia americana nei lavori di alcuni storici, non tutti americani, bisogna notare, negli anni 50 e 70, che li avrebbe spinti a cercare nelle repubbliche italiane, in particolare quelle di Firenze e di Venezia tra 4 e 500, le radici di un repubblicanesimo liberale, nel vecchio senso del termine, e conservatore. A distanza di 35 anni dalle prime formulazioni di questa ipotesi, l'elemento specificamente repubblicano di questa ideologia mi pare quanto indebolito. Ciò nonostante, buona parte della recente e odierna storiografia americana e anglofona vede i comuni soprattutto alla luce delle ideologie e degli interessi dei loro ceti dirigenti aristocratici, sottovalutando la presenza e l'azione politica dei ceti medi e popolari e negando addirittura l'esistenza delle classi sociali e quindi di eventuali conflitti fra loro. In genere ci si limita alla constatazione che le fazioni e le lotte fra le parti erano la grande piaga dei comuni, una debolezza che occorreva superare per consolidare quella stabilità e quel consenso sociale che, secondo tali interpretazioni, sarebbero stati le premesse fondamentali del buon governo, di un vero Stato. Sempre in quel famoso discorso del 1965, Lane disse ripetutamente che nei comuni non ci fu nessuna lotta di classe e lo affermava con un'insistenza che va senz'altro interpretata alla luce dell'ideologia dominante nell'America dell'epoca. Non era ancora cominciata la contestazione che, per un breve periodo, mise in discussione quell'ideologia e gli assetti sociali che essa giustificava. Un'ideologia che, paradossalmente, negava l'esistenza stessa di ideologie che si basassero su divergenti interessi di classe. Come Lane nel caso di Venezia, molti storici americani, ma non solo americani, hanno voluto vedere nei comuni soltanto due schieramenti sociali, il cosiddetto patriziato e la classe lavoratrice, ossia quel popolo minuto che ogni tanto si sollevava ma che, secondo queste interpretazioni, non avrebbe mai seriamente minacciato di trasformare gli assetti sociali o di sostituirli con qualcosa di diverso. Da qui la valutazione spesso positiva dei regimi oligarchici che avrebbero assicurato la tanto desiderata stabilità. Nella recente storiografia sulla formazione degli stati territoriali nel Quattrocento è implicito un simile giudizio negativo sul comune come teatro di violenze, faide e tumulti che avrebbero ostacolato l'emergere di uno stato stabile. In tutto questo, però, mi sembra che la storiografia americana, o meglio quella di parte di essa che sostiene un simile approccio, non si discosti tanto da analoghe correnti storiografiche presenti in altri paesi e anche in Italia. Ciò che una generazione fa poteva sembrare particolarmente americana è diventata un'ideologia conservatrice di più ampio respiro. E lungi da voler trovare in questa visione della società italiana del tardo medioevo e del rinascimento le origini del mondo moderno, questa storiografia mi sembra piuttosto immersa in una nostalgica rievocazione di un mondo perduto, immaginato, ma mai realmente esistito, fatto di principi generosi e bravi, di aristocrazie nobili, di carattere ancora più che di sangue e di sudditi riconoscenti, rispettosi e deferenti. Ovviamente non tutti gli storici americani dell'Italia dei Comuni hanno condiviso questa visione delle cose. Un altro filone interpretativo avresto nei Comuni, anche nei suoi aspetti conflittuali, una realtà più complessa e positiva e esprime un giudizio più critico nei confronti dell'elite comunale. In base alle sue ricerche su Pistoia, il giovane David Herley giudicò favorevolmente il Comune Popolare del Trecento, soprattutto per i tentativi, per un certo periodo anche riusciti, di controllare la violenza dei ceti magnetizi. Laura Martinez, pur riconoscendo le contraddizioni e i limiti del popolo, ha contrastato la tesi secondo la quale i disordini delle lotte intestine avrebbero spinto i cittadini stanchi di tanta violenza alla ricerca di un uomo forte, determinando così la caduta dei Comuni liberi e il sorgere dei regimi signorili. Secondo Martinez, le origini delle signorie vanno cercate non tanto nei difetti nei comuni, quanto nel costante riaffermarsi delle classi feudali, che non furono del resto portatrici di tanta pace e stabilità. Dennis Romano ha recuperato l'importante ruolo svolto dal popolo a Venezia e i lineamenti dei suoi rapporti con l'aristocrazia. Nella sua acuta analisi delle strutture familiari dei magnati fiorentini, Carol Lansing ha gettato nuova luce sull'elite fiorentina magnetizia e non magnetizia, evitando qualsiasi romantica idealizzazione dei grandi, sottolineando anzi come la violenza e le fazioni derivassero dalla cultura stessa degli inaggi aristocratici. Mentre non sottovaluta la forte e la coesione del Comune Popolare che cercava di sostituirsi al potere dei grandi, Lansing si è ben guardata da interpretazioni anacronistiche che farebbero del popolo l'espressione di una precoce modernità o di un'ideologia egualitaria. Si può parlare degli aspetti civici del Comune senza cadere e senza sentirsi accusati di essere caduti nell'ombra di ideologie che presuppongono in tutto ciò un'evoluzione verso la nostra moderna civiltà politica? Credo proprio di sì. Repubblica, libertà, cittadino, civile e la parola civiltà contenuta nel titolo del nostro convegno, quest'ultima con un significato un po' diverso, erano tutti termini chiave del linguaggio politico dei Comuni. Se ogni volta che si usino questi termini si è tentati di sospettare che dietro ci sia l'ombra di una motivazione ideologica, allora o siamo tutti coltevevoli o perdiamo un sacco di tempo a respingere l'accusa facendo notare come e quanto questo linguaggio fosse parte integrante della cultura dei Comuni. Da Brunetto Latini a Dante, a Marsilio da Padova, Civis e Civitas sono la base di ogni loro concetto della politica. Anche Repubblica, meno frequente nel 200, si trova con crescente regolarità nel secolo successivo, mentre Libertas e Justitia erano valori ritenuti così preziosi che le parole stesse venivano scritte sulle insegne e sui palazzi pubblici. Ronald Witt ci ha spiegato i tanti sensi di libertà, compresa quella repubblicana, nel pensiero politico tracentesco e in particolare le origini, i contesti e anche le contraddizioni dell'idea di Repubblica negli scritti di Coluccio Salutati e di altri umanisti. Gli splendidi studi del compiato Charles Davis hanno illuminato l'elemento civico nel pensiero di Brunetto Latini, di Remigio de Girolami, di Ptolemeo da Lucca e dello stesso Dante e più recentemente la magistrale sintesi di James Blythe ha esaminato i concetti aristotelici nel pensiero politico italiano e europeo, ricostruendo in particolare l'originalità repubblicana del pensiero di Ptolemeo. Tutti questi studi sono ben radicati nei rispettivi contesti storici e, anche quando non esitino a paragonare le idee di allora con quelle più moderne, lo fanno senza minimamente supporre che il pensiero politico moderno sia nato dalle pagine degli scrittori di quei secoli. Concludo con un breve cenno allo studio di James Powell su Albertano da Brescia, nel cui sottotitolo The Pursuit of Happiness in the Early 13th Century, un lettore sospettoso potrebbe credere di ravvisare l'eco di un famoso documento della storia americana. E invece no. La felicità di cui scrive Powell non si riferisce a quel documento, bensì, come spiega, al concetto di vita beata che Albertano trovava in Seneca e in Sant'Agostino. A mio avviso, gli storici americani che studiano la civiltà comunale italiana, ma credo che anche questa osservazione valga per i colleghi di altre nazioni, in genere respingono l'idea che i comuni fossero solo o principalmente il preludio ad altre fasi storiche o a sviluppi posteriori. Sentendosi innanzitutto medievisti, casomai preferiscono mettere l'accento su ciò che distingue la civiltà comunale da tutto ciò che segue, rinascimentale, europeo, moderno o americano che sia, sottolineando invece le caratteristiche e le fisionomie specifiche di quella lontana civiltà.